Immersi nella natura ai piedi dell'Eremo di San Martino, uno dei tanti luoghi che ospiterà i festeggiamenti in nome dell'omonimo santo, ci spiega tutto Don Francesco della Monica. Finalmente dopo l'inaugurazione del 17 maggio del 2015 siamo alla vigilia della festa di San Martino e quindi fervono gli ultimi preparativi per accogliere questa sera la nuova statua del Santo Patrono che verrà portata dopo 35 anni nuovamente qui su all'Eremo. Come si svolgeranno i festeggiamenti? Sì, allora sono iniziati a dire il vero domenica 8 quando il vicario generale della nostra Arcidioce si ha benedetto la nuova campana che proprio in questo momento stanno montando. Domani che è 11 di novembre, giorno liturgico di San Martino, ci saranno le celebrazioni alle 8, alle 11 e alle 19 la sera con sicuramente molto concorso di popolo. Sempre domani sera alle 21 ci saranno i fuochi che saranno fatti esplodere proprio dal piazzale interno dell'Eremo e poi sabato prossimo nella chiesa di Santa Maria del Rovo ci sarà una serata di festa per vivere il momento di aggregazione. In che modo le persone potranno raggiungere l'Ermo di San Martino? Allora una prerogativa dell'Ermo è proprio la salita a piedi, quindi invitiamo a salire così liberamente, eccetto le persone anziane per le quali ci sarà un servizio di navetta. Però poi tutti gli altri possono fare questa bellissima passeggiata, il viale è stato illuminato quindi è uno spettacolo bello da vivere così.